Ma è meglio investire in ETF o in azioni? Sono sicuro che anche tu almeno una volta nella vita ti sia posto questa domanda. In questo video cercheremo di dare una risposta il più esaustiva possibile a questa domanda. Analizzeremo infatti tanto i fattori tecnici quanto quelli psicologici per poter in autonomia decidere se posizionarti su uno sull'altro o perché no anche su entrambi. Pronto? Spegni tutte le notifiche, allaccia le cinture e partiamo. La prima cosa a tenere in considerazione quando si investe sui mercati è ovviamente la capacità di farlo. Lo so è una risposta scontata però effettivamente vedo là fuori che non è proprio così scontata. Molti oggi comprano e vendono solo perché hanno visto il grosso investitore di turno che l'ha fatto o hanno letto un'analisi su internet o hanno visto uno youtuber che ha parlato di un determinato asset. Di conseguenza basano su quello che hanno fatto gli altri la loro decisione di comprare o vendere. Ma anche solo il chiedermi mi conviene comprare o non mi conviene comprare. La risposta che posso dare è... Solo tu puoi saperlo. Io non posso dirti quando comprare e quando vendere. Ti posso dire quando compro io e quando vendo io ma basandomi sulle mie strategie. Tu ovviamente avrai le tue strategie e avendo le tue strategie dovrai basare gli acquisti e le vendite a quelle che sono le tue di strategie. Investire richiede in tutti i casi conoscenza e quindi quali abilità dobbiamo sviluppare per poter investire. Prima abilità la gestione del portafoglio. La seconda abilità la gestione del rischio. La terza abilità la gestione delle aspettative. La quarta abilità l'analisi quantitativa. La quinta abilità l'analisi qualitativa. E di queste ultime due quantitativa e qualitativa ho fatto un video dedicato. Te lo lascio linkato qua sotto e questo video qui. E il sesto punto l'analisi del mercato globale. Ti garantisco che se diventi cintura nera di questi sei punti investire sarà infinitamente più facile. E voglio aggiungere un settimo punto, un punto bonus che in realtà non ho citato perché è un po' particolare ma che comunque è secondo me un elemento estremamente importante e che viene come conseguenza di questi sei punti. Quindi se hai fatto un buon lavoro con questi sei punti questo settimo punto è il punto chiave che ti permette di ottenere risultati. E il settimo punto importantissimo trascurarlo porta a perdere è la pazienza. Una volta che tu hai padroneggiato i primi sei punti e quindi sei sicuro di come, dove e perché ti sei esposto sui determinati asset allora la pazienza è il settimo punto e ciò che ti permette, ti distinguerà da chi non ha successo da chi ha successo nel mondo degli investimenti perché ricordati, lo dico spesso e continuerò sempre a ripeterlo il mercato è un trasferimento di ricchezza, di denaro da chi non ha pazienza verso chi invece ha pazienza. E tu vuoi ovviamente essere quest'ultimo, quindi chi ha pazienza. Appurato ciò, la base veniamo alla nostra domanda ha senso più investire in ETF o ha più senso investire in azioni e soprattutto quando preferire uno piuttosto che l'altro? La risposta è relativamente semplice e sono sicuro che te l'aspetti e dipende dipende da che cosa, da quali fattori 1. La nostra competenza quindi quanti di quei sei punti abbiamo padroneggiato e di conseguenza quanto siamo diventati bravi a leggere le azioni e leggere il mercato. Più siamo bravi più siamo competenti in quei sei punti maggiore è la nostra capacità di investire. Questo che cosa comporta? Comporta che se siamo effettivamente bravi a scegliere le azioni beh, allora forse non ci serve tantissimo investire in ETF ma andare piuttosto a sceglierci noi il nostro paniere di azioni su cui puntare. 2. La nostra esperienza sul mercato quanto tempo siamo stati sul mercato quante perdite e quante vittorie abbiamo fatto cioè quanto siamo competenti effettivamente sul mercato ed ecco perché esorto soprattutto chi ha le prime armi a prendersi sì del tempo fondamentale per imparare quei sei punti ma poi una volta imparate a livello teorico vanno applicati e quindi bisogna crearsi dei portafogli demo se vogliamo anche in reale ma che ci permettano di capire effettivamente come ci muoviamo quindi non cerchiamo di bruciare le tappe la cosa migliore è posizionarsi con calma con strategia cercando di comprendere bene quello che stiamo facendo questa è una cosa imprescindibile e lo so magari mi dirai ma come faccio a posizionarmi con calma se devo comprare le azioni apple a 200 euro e voglio comprare le azioni di meta a 600 euro che ne so vero risposta assolutamente legittima in realtà oggi è possibile anche comprare frazioni di azioni e comunque possederle ottenendo dividendi e tutto quello che serve ti basta far che cosa utilizzare trade republic ti lascio qua sotto il link c'è tra l'altro un bonus in azioni se utilizzi il mio link tanto ti dà tutte le istruzioni appena ti registri inserendo il mio codice ti registri a quel punto hai un'applicazione sul cellulare o anche su computer che ti permette di comprare azioni a partire da 2 euro 2 euro perché? perché il costo d'acquisto è di 1 euro quindi ogni volta che compri o vendi un'azione paghi 1 euro però c'è una cosa importante a considerare che io non uso tanto trade republic per comprare direttamente così azioni ma lo uso perché non ho commissioni sui miei piani d'accumulo infatti se tu vuoi per esempio comprare un'azione di apple puoi impostarti un piano d'accumulo in quel caso le commissioni sono zero e i piani d'accumulo partono da 1 euro quindi puoi costruirti il tuo piano d'accumulo su qualsiasi azione tu voglia a partire da 1 euro capisci che puoi iniziare quindi a fare test anche con 20 euro al mese anche con 5 euro al mese dipende su che cosa vuoi puntare quindi non importa quanto sia grande il tuo portafoglio puoi iniziare a impratichirti anche partendo con poco i piani d'accumulo possono essere creati e sospesi in qualsiasi momento non c'è vincolo non è che se tu dici comprami una volta al mese un euro di questa azione o una volta a settimana o una volta ogni due settimane quello che è allora poi devi tenerlo così a vita no puoi toglierlo in qualsiasi momento quindi puoi anche utilizzarlo come strategia per far che cosa per andare a comprare quell'azione senza pagarci le commissioni banalmente però ti puoi costruire un piccolo portafoglio e puoi guardare analizzarlo puoi vendere quando è il momento di vendere in quel caso paghi la commissione di un euro quindi tieni d'occhio chiaramente soppesa bene quanto hai raggiunto quanto stai raggiungendo però puoi iniziare a costruirti e questa cosa è importante già un qualcosina per impratichirti prendere la mano terzo punto la nostra capacità di gestire attivamente i nostri investimenti e questa è una capacità spesso sottovalutata perché è estremamente facile comprare un'azione ma ciò che è difficile è sapere quando venderla sicuramente ti sarà capitato di aver comprato qualsiasi cosa e poi esserti posto il dubbio sì ma quando lo vendo ecco questa roba qui non ci deve essere se hai lavorato sui sei punti questa roba qui semplicemente non esiste perché saprai a priori avrai una strategia per affrontare il mercato di conseguenza saprai esattamente come muoverti in ogni situazione questo è veramente fondamentale e continuerò sempre a dirlo quindi quando investite da una parte quando investite dall'altra quando sei carente sui sei punti anche se secondo me devi comunque conoscerli anche per investire in etf obiettivamente qualsiasi scimmia può investire in etf diciamocelo scusa il termine ma effettivamente così tu sai che tendenzialmente un sp500 negli ultimi 100 anni ha fatto una media di un 7-8% annualizzato qualsiasi scimmia può aprirsi tra i repubblic prendere l'sp500 per esempio di iShares quindi di BlackRock caricarci sopra un piano d'accumulo di x euro al mese o x euro ogni due mesi e semplicemente aspettare più o meno si ha quella media renta media che significa media anche in questo caso hai comprato sì ma devi essere consapevole che non vuol dire che ogni anno fai il 7% vuol dire che ci sono anni in cui il prezzo magari è sopra di un 20% e anni in cui è sotto di un 20% la media nel lungo termine è circa un 7-8% di rendimento annualizzato a cui va tolta una commissione che vai a pagare ovviamente a BlackRock in questo caso o qualsiasi altro gestore etf per la gestione appunto del portafoglio in questo caso si parla di una gestione passiva dove tu non devi scegliere le azioni non devi stare lì ad analizzartele ma è BlackRock che fa questo facendo riferimento a quello che è l'indice dell'SP ovviamente in questo caso le migliori 500 company per capitalizzazione di mercato nel mercato USA d'altra parte se tu sei bravo a scegliere le azioni cosa puoi fare puoi andare a sceglierti effettivamente le azioni su cui puntare cioè non devi per forza prendere l'SP 500 se sei bravo e competenza vai a sceglierti le azioni questo è il mio parere personale quindi quello che mi sento di dire è se non ti senti esperto se non sei esperto non hai fatto pratica lascia perdere magari le azioni singole e vai a esporti più sugli etf cioè utilizza gli etf come strumento per diversificare meglio il tuo portafoglio piuttosto che concentrarti sulla scelta di azioni singole perché scegliere azioni singole significa analizzarle quindi di nuovo analisi quantitativa dei bilanci devi poterle seguire devi capire come stanno andando capire se escono notizie riguardo quelle azioni quindi non è proprio semplicissimo non è che le compri le butti in portafoglio e chi si è visto si è visto no devi stargli un minimo dietro per comprendere cosa sta succedendo sempre con orizzonti temporali lunghi per carità però comprendere ciò che sta succedendo se la tua idea è quella di invece crearti come fosse un piano pensionistico allora forse funzionano molto meglio gli etf nel tuo caso piuttosto che una gestione attiva come quella appunto della scelta delle azioni su cui investire d'altra parte magari sei esperto di azioni ma non ti frega niente di andare a scegliere le azioni perché non hai il tempo per seguire e quindi scegli di optare per un etf in questo caso a maggior ragione almeno sai quello che stai facendo hai la capacità di analizzare e quindi a mio avviso può anche starci come soluzione personalmente che cosa faccio personalmente ho entrambe le cose in portafoglio quindi utilizzo in questo caso le azioni per andare mirato su business quindi dare un peso maggiore a business che secondo me hanno un senso e secondo me andranno ad apprezzarsi negli anni dall'altra parte utilizzo gli etf come edge sul mio portafoglio qui utilizzo gli etf per diversificare maggiormente in mercati soprattutto che non conosco quindi per esempio mentre in portafoglio ho apple piuttosto che microsoft piuttosto che coca cola e così via dall'altra parte vado a utilizzare gli etf per espormi per esempio sui mercati emergenti come l'india che non conosco in ogni caso utilizzo una buona parte di portafoglio in etf con sp500 quindi attaccando quello che è il mercato azionario statunitense anche in questo caso per diversificare perché non mi sognerei mai di comprare 500 azioni da solo da analizzarmi perché sarei scemo quindi vado a lavorare su un sp500 per questo motivo qua per diversificare d'altra parte ci abbino che cosa ci abbino un etf sugli emerging markets quindi sui mercati emergenti cui parlavo prima di cui magari non so tantissimo mi sto informando analizzo studio però non so poi bene come orientarmi nel mio caso è più facile aggredire questo mercato in questo modo così come il word altro etf che mi permette di colpire tutto il mercato globale che viene poi soppesato in base a com'è l'andamento quindi questi sono i tre principali etf su cui lavoro ho poi gli etf per esempio sul mercato immobiliare ho degli etf sull'oro fisico una manciata di etf che utilizzo per aiutare un po' il mio portafoglio ad essere più diversificato esponendolo quindi su cose che per me diventerebbe complesso seguire di base nelle mie azioni ho roba prevalentemente statunitense e cinese non ho azioni italiane europee prevalentemente sono queste due le categorie i due mercati su cui mi sono focalizzato come azioni singole nel caso degli etf tutto quello che ci siamo detti per andare a colpire in un modo molto più ampio più su vasta gamma questi paesi e le varie categorie chiaramente che entrano in gioco quindi utilizzo entrambe le cose un peso maggiore sulle azioni rispetto che gli etf semplicemente perché a me piace mettermi lì e studiarmi analizzarmi mi diverte di più questa cosa e quindi in linea con il mio portafoglio mi piace maggiormente fare questo però comunque una buona quota ce l'ho in etf diciamo se non vado errato più o meno un 50% ce l'ho in etf e il restante 50% lo utilizzo per acquistare azioni singole un'altra cosa importantissima è la gestione della liquidità personalmente tengo sempre della liquidità da parte nel caso di trade republic puoi tenerla parcheggiata sulla piattaforma esattamente come un conto in banca perché trade republic ricordo è una banca e i fondi detenuti liquidi in euro sono assicurati dal fondo monetario europeo fino a 100.000 euro quindi tu puoi tenere la tua liquidità ferma su trade republic e ottenere degli interessi rispetto alle nostre banche tradizionali che magari non ci danno interessi trade republic si e gli interessi dipendono dai tassi di interesse della bce gli ultimi tassi sono del 375% trade republic ti dà il 375% di interessi sulla tua liquidità parcheggiata interessi che puoi volendo riutilizzare per farti piani d'accumulo o per comprarti azione per speculare insomma fai un po' quello che vuoi qualche mese fa erano intorno al 4% quindi comunque degli interessi niente male degli interessi niente male per avere della liquidità semplicemente parcheggiata tengo sempre una liquidità pronta proprio perché nel mio portafoglio voglio che ci sia la possibilità nei casi in cui ci stiano crolli di mercati di intervenire e trade republic mi dà proprio questa possibilità qui perché la mia liquidità parcheggiata non si svaluta o almeno è rallentato lo svalutamento perché comunque mi genera degli interessi quindi cresce la mia quantità di denaro parallelamente con molta pazienza mi espongo sulle azioni etf e attendo questa era un pochino la panoramica generale spero di averti dato i punti che puoi e devi andare a sviluppare ho fatto tanti video su ognuno di questi punti all'interno qui del canale dagli un'occhiata in modo da iniziare a impratichirti un pochino padroneggiati tutti questi punti che abbiamo affrontato allora puoi effettivamente iniziare a esporti di più su azioni rispetto che solo su etf ricordo non c'è assolutamente nulla di male nel comprare gli etf piuttosto che le azioni o viceversa o comprare entrambi quindi ancora una volta dipende dal tuo profilo di rischio dal tuo profilo di investitore il mio è un profilo lungo termine quindi mi posiziono con estrema pazienza e calma se sei più speculativo allora lì magari conviene puntare determinate azioni piuttosto che l'etf insomma valuta tu in base a quelli che sono gli strumenti che ti ho dato oggi e le nozioni che ti ho dato oggi per poter discernere e scegliere ciò che fa più al caso tuo rispetto appunto alla tua propensione sul mercato degli investimenti qua sotto ti lascio il link di Trade Republic e i link ai video che ho menzionato ti ringrazio per essere stato qui con me qualsiasi domanda qualsiasi dubbio scrivilo qua sotto nei commenti non dimenticarti di iscriverti al canale per rimanere aggiornato costantemente con tanti tutorial news dai mercati in modo da rimanere sempre sul pezzo un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video